Un match da dentro fuori per l'Amen Scuola Baschetta Rezzo che giovedì sera sul parquet del Palace Porta Estra affronterà Manetti Castelfiorentino per la gara 2 di finale play-off. Dopo la sconfitta di gara 1 l'Amen è chiamata ad un successo davanti al pubblico amico per allungare la serie e tornare domenica prossima in terra fiorentina. Contro una squadra fisicamente più strutturata come Castelfiorentino la SBA dovrà tirare fuori gli artigli in fase difensiva cercando di tenere gli avversari al di sotto dei 70 punti realizzati come è successo nella gara di campionato disputata al Palace Porta Estra e vinta dal quintetto di coach evangelisti. Gli Amaranto hanno già avuto modo di valutare tutte le qualità offensive dei giallo-blu di coach Betti che anche domenica scorsa hanno dimostrato tanta pericolosità nel tiro da fuori. Solo con una difesa ai limiti della perfezione e tanta determinazione l'Amen potrà mettere in difficoltà Castelfiorentino. Per aiutare i giocatori Amaranto servirà anche l'appoggio del pubblico aretino chiamato a raccolta per sostenere una squadra capace di una stagione di ottimo livello chiusa al quinto posto e che è riuscita nuovamente ad arrivare dove tutto era stato stoppato due anni fa a causa del covid quando la cavalcata della SBA in Serie C Gold si era interrotta bruscamente. Giovedì sera sarà quindi l'occasione per tutti gli sportivi per tornare numerosi al Palace Porta Estra per una gara di cartello appuntamento alle 21 quando sarà alzata la palla 2 tra Ame Scuola Baschettarezzo e Manetti Castelfiorentino.